reddito cittadinanza rappresenta uno schiaffo agli italiani onesti e un insulto a tutti i cittadini che quotidianamente si rimboccano le maniche per ripartire giorgia meloni si scaglia contro il reddito di cittadinanza a seguito della scoperta da parte dei carabinieri di indebite percezioni dello stesso l'ultimo scandalo a bologna dove hanno stanato diversi furbetti questa volta tutti i cittadini stranieri che lo percepivano indebitamente si trattava scrive meloni di veri e propri viaggi d'affari dalla romania fino all'italia con l'intento di intascare il sussidio questa assurda misura oltre ad essere dannosa rappresenta uno schiaffo agli italiani onesti e un insulto a tutti i cittadini che quotidianamente si rimboccano le maniche per ripartire quante imprese e attività avremmo potuto aiutare con quelle risorse